Ma sapete che c'è una novità? Sì, oggi siamo in cucina con Giova GT Ma andiamo bene, proprio bene Accendiamo il forno a 175 gradi Iniziamo ad accendere l'olio di palma a 4000 gradi Pirottini negli stampini Stampini non ne ho, quindi mi lascerò senza stampi Come siete con i pirottini? Stampini non ne ho Non vedo l'ora di mettere le mani in pasta Misuriamo due tazze e mezzo di farina Ecco allora, iniziamo a misurare la farina in due tazze Ecco come si misura la farina in due tazze Ecco che l'abbiamo misurata Ora la mettiamo nel robottino Ecco Due cucchiaini di lievito Una puntina di bicarbonato Poco poco E un pizzichino di sale Allora Ecco Due cucchiaini di lievito Uno E due E un pizzichino di sale Adesso mescoliamo E adesso mescoliamo Adesso versiamo mezza tazza di latte Quasi quasi diventavo vecchio prima che arrivava Olio di semi E mi raccomando mettete anche un po' di olio di macchina E un pochino di aroma di vaniglia E' il momento del burro 112,5 grammi Prendo direttamente il burro Lo spezzo con le mani e lo infilo dentro E adesso ci mettiamo una tazza di zucchero Ecco qui la tazza di zucchero Mi raccomando mettete ne tanto che vi viene il colesterolo Mescoliamo burro e zucchero Mescoliamo direttamente tutti insieme E adesso andiamo a mettere le tre uova La prima Seconda Terza Questa è la prima Questa è la seconda Questa è la terza Partito Sembra il potasso di carotte di zucchero A me non ci sembra invece un po' di vomito Provate a giudicare voi Adesso un po' alla volta e a più riprese Aggiungiamo il composto con il latte Tre Azioniamo per l'ultima mescolata Azioniamo anche noi per l'ultima mescolata Finalmente è arrivato il magico momento di metterci lo zucchero glitter Ecco Qui basta pensare al colore E guardate la polviniera colorata che sta scendendo Per essere più pratico Lo metto direttamente qui dentro Bene Per iniziale Prendiamo il mestolino Ecco per benino Qui dentro L'olio di palma Ma nel frattempo Dove metteremo quella sbobba fritta Mettiamo un po' di carta Per assorbire l'olio Ecco Ora mi sembra pronto Io ora lo prendo E lo mettiamo nel recipiente Con un bel po' di carta Che assorbe Ora farò il test culinario Lo faccio per voi Per voi Andiamo bene Mi sa che ora dopo aver cucinato sta sbobba Potrò ripulire tutto nell'arco di 50 anni Bella That's it friend Yes Ciao 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 Grazie a tutti.